Ciao a tutti i malati di Milan e non! Eccoci qui nel pre-partita di Bayer-Everkusen-Milan Con la solita mezz'oretta vedremo, magari meno ragazzi, mi annoio di meno oggi Con la nostra solita analisi tattica del match andremo a parlare insieme di ciò che esprime in campo l'Everkusen Come gioca l'Everkusen e come secondo me dovremmo rispondere noi, come giocheremo noi, quello che dovremmo sfruttare Quello a cui dovremmo stare attenti, insomma, le solite cose che avete già visto negli altri episodi Spero vi piace il format, fatemelo sapere nei commenti, spero vi piace il video, fatemelo sapere nei commenti Ma soprattutto con un mi piace ragazzi che sono importanti per sostenere il canale Cerchiamo di arrivare almeno a 200, 200 mi piace e sono contento 200 mi piace a questo video e soprattutto ragazzi anche commentate col vostro pensiero, con la vostra opinione Complimenti, critiche, quello che volete ragazzi, l'importante è che interagite e che mi fate sentire che ci siete Presenti, rispondete presenti a questo video Allora, soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E attivate la campanella che è importante perché YouTube dovrebbe informarvi quando io, insomma, carico un video Quindi dovrebbe essere una funzione, insomma, molto importante per me Vediamo, vediamo se funziona, quindi mettete l'iscrizione e poi fatemi sapere se funziona Allora, Bayern, Leverkus e Milan, che è inutile, non servo io per dirvi ragazzi È una partita difficile, è una partita tosta, dovremmo fare una grande partita per vincere Queste sono cose ovviamente che chiunque può dirvi Ma probabilmente anche il video che sto facendo dopo, c'è anche l'analisi Però andiamo ad analizzare un po' quello che potrebbe succedere E quello che, secondo me, dovremmo sfruttare Perché? Perché abbiamo una cosa soprattutto che potrebbe aiutarci Cioè aver affrontato già una partita del genere poche settimane fa Cioè quella contro l'Inter Perché questa potrebbe essere molto simile alla partita contro l'Inter Allora, sicuramente a livello di atteggiamento mentale La partita contro l'Inter è un esempio per ogni partita Cioè come hai giocato contro l'Inter devi giocare ogni altra partita Perché è una partita dove hai dato veramente tutto Dove hai giocato la squadra, dove sei stato disponibilissimo a ogni richiesta del mister Quindi assolutamente i giocatori devono avere quell'atteggiamento in ogni partita Soprattutto domani, perché? Perché come contro l'Inter servirà veramente, ragazzi Essere attenti in ogni singola cosa che si fa Perché? Perché è un minimo errore Può portare veramente agli spazi E giochi contro una squadra che è veramente forte A sfruttare gli spazi che gli lasci Ha dei giocatori, ha delle individualità importanti Quindi sarà già difficile vincere E fare una partita buona di per sé Perché secondo me a livello di individualità Te la puoi giocare, ma comunque sono tanto forti È un giocatore veramente interessante, forti Virz, ragazzi, è fantasia pura Lì nella tre quarti, tra le linee, veramente tipo farmale Hanno un centrocampo solido Che comunque nonostante magari due centrocampisti Non con un nome altisonante Ma solidi, concreti, calciatori Due esterni favolosi, clamorosi Anche se uno dei due soprattutto Può concederti qualcosa A livello A livello difensivo Può concederti qualcosa E dopo lo andremo a vedere Bisogna sfruttare questa cosa qui In difesa Ragazzi, il Leverkusen difende compatto Difende bene Difesa solida Bel trio Però anche lì qualcosina Qualcosina si può Si può fare Anche perché il Leverkusen Non ha iniziato propriamente benissimo Ha iniziato Nel senso Per il livello a cui ci stava abituando Ha iniziato comunque bene Però Per il livello a cui ci stava abituando Secondo me Potrebbe lasciarci qualcosa E dovremmo essere bravi noi a sfruttarla Certo è che Ripeto È una partita difficile È una partita dove serve un gran mina Non una grande prestazione Ma che prestazione? Andiamo a vedere Vi ho preparato una nuova grafica E spero vi piaccia Eccoci qua Eccoci qua con la nuova grafica Signori Spero vi piaccia Spero sia di vostro gradimento Sulla una roba molto carina Molto figa Che dovrebbe Dovrebbe anche Aiutare a capire meglio Non invado il campo Eccetera eccetera Quindi È una cosa molto carina Fatemelo sapere nei commenti Se vi piace questo upgrade Questo piccolo upgrade Allora Il Leverkusen ragazzi Si schiera Questo lo sapete tutti Ma è giusto per specificarlo Anche per chi magari non lo sa Si schiera con Trio Tre in difesa Molto Molto solido Con soprattutto Con due Non velocissimi Come Tai e Tapsoba Ma molto Bravi in marcatura E uno Un po' più Rapido Un po' più Bravo a coprire la profondità Come in Capie Che è più Che è il difenso Diciamo un po' più rapido Per fare un esempio Tomori È quello più rapido Dei tre E questa cosa qua Ricordiamocela Perché dopo Sarà un argomento importante Perché ogni piccolo difetto Contro una squadra così importante È da sfruttare Poi Abbiamo Due mediani Soprattutto Adesso vi dirò come vanno in impostazione Ma comunque Uno dei due Sempre A ricevere Poi Grimaldo Frimpong Larghi Ma Bravi anche a stare dentro il campo Ragazzi Quindi a questo bisogna stare attenti A differenza secondo me Dell'Inter Abbiamo di fronte Una squadra che Sulle fasce ti può fare Molto molto male Anche l'Inter lo era Però scegliere di fare Densità centrocampo È la scelta giusta Contro l'Inter E vi dico già Che è la scelta giusta Anche oggi Però devi stare Ovviamente bravo Deve essere veramente bravo A scalare con i mediani Devi dare supporto Perché Grimaldo Emerson È una roba Che non si può vedere Frimpong Teo già di più Infatti dopo Ne parleremo Però Serve comunque Il La disponibilità Da parte di tutti E dopo ovviamente Lo andremo ad analizzare Virz E Terrier Ha Mezze punte Ragazzi Mezze punte È proprio Di ruolo Brava ad allargarsi Brava stare dentro il campo E saranno secondo me Quello che ci farà un po' soffrire A meno che Riusciremo a fare Quello che Vi andrò a spiegare E Boniface Ragazzi Che è un attaccante Bravo a segnare Bravo a muoversi Bravo a dare nello spazio Insomma È un attaccante completo Non un fenomeno È un fenomeno Però Se non stai attento Ti può far Ti può far veramente Male Come contro l'Inter Raga Sarà importante Ok Potrebbe essere Una chiave della partita La scelta ovviamente Di andare ad abbassare L'Oftus E Pulisic A fare le mezzale Ok Perché metto Rendesk qua Fofana qua Perché Fofana Dopo vi spiego il perché Deve andare in costruzione Nei tre Anche questo Fatto contro l'Inter Ti può aiutare Anche oggi Perché impressione Ti dà Ti dà veramente La forza di avere un centrocampo A tre Ma avere la superiorità numerica Perché E soprattutto Chiamare a sé Gente come Xhaka E Henry Che sono ottimi Centrocampisti Che hanno La tendenza Ma il tutto E l'everkusen lo ha Ad aggredire alto Ok Soprattutto in certi momenti La partita Sono bravi anche A essere compatti E stare a zona Ma E secondo me Lo faranno Perché potrebbero avere La presunzione Di volerci prendere Così in controtempo E noi dovremmo essere bravi A sfruttare questa cosa qua Xhaka e Henry Che vanno a prendere alto Può portare La disponibilità E il tanto movimento A centrocampo Da parte Che ne so Rendersi alza Pulisic abbassa Rendersi alza Si abbassano sia Loftus che Pulisic E così Rendersa spazio Capite Tutti questi movimenti Ragazzi Fatti anche contro l'Inter E questo vi fa capire Quanto Perché La paragona Contro l'Inter E perché E' importante Fare questa densità Centrocampo Libera tanti spazi Libera lo spazio Per le A Libera spazio Per i Reb Libera spazi Per te dentro al campo E per gli stessi Centrocampisti Quindi muoversi Tanto da parte Centrocampisti È una cosa fondamentale Per carità Lo è sempre Ma oggi Può essere la chiave Veramente fare Densità Centrocampo Dove bisogna stare attenti Bisogna stare attenti Esattamente come lo siamo stati Per carità Perché lo siamo stati Contro l'Inter Nelle zone Insomma Nelle corsie esterne Perché Ok fare densità Centrocampo Ma ragazzi In fase di non possesso Bisogna essere bravi A rimettersi così A rimettersi Pulisici largo Leao Leao Supporto E Loftus Renders Scusate Fofana Renders A schermare Da mediani Devono essere Molto bravi Adesso vi spiego A far che A non uscire Le solite robe Quindi Solita marcatura La zona Ma comunque Nel caso specifico Che stiamo affrontando Bisogna essere bravi A scalare Ragazzi Bisogna essere bravi A fare Ok densità Centrocampo Ma essere Disponibili E pronti A non dare spazio Sugli esterni Perché ragazzi Loro sugli esterni Sono veramente Molto Molto Forti E Usano Le corsi esterne Per creare Poi spazio All'interno Del campo Per Virz Per Terrier Per gli scambi Comunque gli 1-2 Tra le mezze punte E gli esterni Quindi Questo È una chiave Importante In fase offensiva Densità centrocampo Ma soprattutto In fase di non possesso Bisogna essere Veramente molto bravi Secondo me Ancora di più rispetto Che contro l'Inter A non dare spazio Nelle corsi esterne Perché loro sono Veramente Veramente Pericolosi Secondo me Molto più Dell'Inter Sarà fondamentale Quindi Ragazzi La parte dei terzini Cioè i terzini Dovranno veramente Essere bravi Ad essere quinti Quando dovranno Essere quinti Ed essere quarti Quando dovranno Essere quarti Cioè Bisogna veramente Avere la licenza Nel momento giusto Di attaccare E nel difendere Allo stesso tempo Perché Perché ragazzi Come ho già detto Le corsi esterne Sono veramente pericolose Sono tranquillo Ni Nel senso che Emerson Mi dà un po' Più di preoccupazione E Teo Perché A volte Discontinuo Ma se Teo È quello Visto nell'ultima partita Non ho assolutamente Nessuna paura Anzi Dopo vi dico Cosa farei Allora In fase di costruzione Leverkusen Ragazzi Si mette così Quindi torniamo A noi Noi con una difesa Se ne 4-2-4 Che in realtà È un 4-4-2 Ok Quindi con Pulisic E Leao A coprire queste zone di campo Queste linee di passaggio Senza alzarsi troppo Sui braccetti Perché ragazzi Non serve Abram Su Suta Su chi porta palla Ok E Loft subito pronto Dietro ragazzi A far che Ad essere bravo A non Farsi attrarre Da cosa Da questo ragazzi Perché Perché il Ma Io vi Addirittura cercherei Di non Abram non deve fare questo Abram deve stare così Ok E deve andare a prendere A orientare A seconda di Dove Si abbassa Il centrocampista Perché Il Il Leverkusen Fa questo Abbassa 1 Cerca di vedere Se è possibile Ok Ricevere Se non riceve Il Leverkusen È molto bravo Ad avere un possesso veloce Un possesso di bella Molto rapido E A far abbassare Xhaka dall'altra parte Quindi Cosa bisogna fare Non bisogna Concedere All Leverkusen Questa possibilità Nel senso di trovare Xhaka libero Perché Hanno girato palla Velocemente L'hanno trovato libero Di qua Perché Perché Ebra magari va qua Loftus va a prenderlo qua E quindi Se fanno veloce Magari Loftus arriva in ritardo qui Ok Quindi se arriva in ritardo qui Esce magari troppo forte E si crea un po' Degli spazi Quindi La prima cosa importante Sarà La gestione di Loftus Ok La gestione della pressione Tra la parte Di Abram e Loftus Come in ogni partita L'abbiamo parlato Anche nelle parti precedenti È importante ragazzi Non aggredire troppo alti E stessa cosa Devanno fare Pulisic Pulisic e Leao Devanno essere bravi A dare supporto Nel caso in cui Loftus Non riesca A stare su Hendrik Xhaka Allo stesso momento Accorciare Non devono uscire forte Devono accorciare Perché Perché Leao e Pulisic Devono essere Pronti a Ostruire queste linee Di passaggio Ok Pulisic Dopo vedremo Anche Questa Ok Perché Perché Se trovano ragazzi Seconda di dove vanno Seconda di dove riescono Trovano trovare lo spazio Il Leverkusen fa questo Ragazzi Leverkusen abbassa La mezzala Cioè La loro mezzala Che è la mezza punta Che può essere pericolosa È una cosa pericolosa Perché Perché Il loro compito è Attrare a sé O il Trezzini O O il difensore centrale Bisognerà essere bravi Esattamente come Ha fatto contro l'Inter Nel lasciare la licenza Nel andare a prendere Queste mezze punte A Fofana E Renders Cosicché I nostri difensori centrali Se ne stanno su Boniface Belli che tranquilli Cosicché I Terzini Non devono uscire E non lasciano spazio Per Per le corsie esterne Che ripeto Sono molto pericolose Quindi Questa roba qui Questa roba qui Del tipo che Renders ha E Emerson Stringer qua Non si deve assolutamente vedere Ma neanche questa Perché Se Stringer Se va a Tomori Boniface è bravissimo A andare nello spazio E Grimaldo A supportare Quindi Ragazzi Sarà importantissimo Come fatto contro l'Inter Questo Fofana E Renders Dovranno stare Non a uomo Ma a zona Ok Questa zona qua Ragazzi Sarà di loro Competenza Nello scalare Nello stesso Virza e Terriere Nello stare ovviamente Su Boniface Si abbassa Perché Può abbassarsi anche Boniface e Terriere Andare a prendere lo spazio Virza Andare a prendere quello spazio Perché Virza Ragazzi Fa l'esterno Fa la punta Varia molto Quindi Questi movimenti Tra le linee Ragazzi Dovranno gestirli Gli esterni E scusatemi Mediani Che ovviamente Devranno essere supportati Da Loftus E da Pulisic Ok Come abbiamo detto prima La Loftus e Pulisic Dovranno stare Praticamente sui mediani Ok Quindi si dovrà creare Questa roba qua Ma ovviamente Ragazzi Non A pressione a uomo Come abbiamo sempre detto Questa è una prerogativa Ma a zona Perché dovranno essere bravi A dare Manforte Anche in caso A Frimpong Su Frimpong Grimaldo Nel caso in cui si riescano A trovare degli spazi Pericolosi Quindi Le zone Dovranno essere Come al solito Importanti Leao Ovviamente Dovrà dare una mano Ma Conosciamo Leao Sappiamo le sue caratteristiche Che Fonseca lo sta capendo Bisogna chiedergli meno Questi lavori qua E più questo lavoro qua Ok Quasi a formare Coppia d'attacco Con Abram Detto questo Leao si sta rendendo più disponibile Contro il Lecce Si è visto Speriamo che anche questa Per te lo faccia Perché con Frimpong Teo avrà bisogno Perché Terrier Frimpong Virz Grimaldo Ragazzi Tra le linee Sono veramente pericolosi Quindi l'importante ragazzi Ripeto è che i mediani Stiano a zona E vadano Si accoppiano molto spesso Con Terrier e Virz Così che Non si vadano a creare Degli spazi Che Che Leverkusen Cercherà in ogni modo Di creare Perché l'azione Verrocrativa è questa Virz che prende palla Si porta allo spazio E si crea questo Quindi Bisognerà essere molto bravi A fare questo Questo tipo di lavoro qui Cosa molto importante Ragazzi Sarà Come detto Se si andrà Sulle corsie esterne Quindi Se la spazio Sulle corsie esterne Cosa importante sarà Fare questo ragazzi Renders dovrà andare A zona qui Per far sì che Non si crea Questo problema Ok Quindi in tre In questa zona E Allo stesso tempo Bisognerà Scalare In maniera importante Fofana Dovrà andare in questa zona qua A coprire questo spazio qui Ok Quindi Scalare Veramente in maniera Come Come ha fatto contro l'inter Perché contro l'inter L'hanno fatto benissimo Ecco perché Dico che la partita Aver fatto una partita Come la contro l'inter È importante Perché ti Ti dà l'esempio Di cosa devi fare oggi In fase di costruzione nostra Ragazzi Fofana Sarà importante fare questo Fofana Ad abbassarsi Nella linea dei tre Quindi bisognerà creare Un 3-5-3 Centrocampo Sempre Perché Perché Come abbiamo detto prima Sarà importante Questo movimento La parte dei centrocampisti Questo continuo scambio Perché Perché ragazzi Terrier e Virz Stanno in questa zona qua Cioè loro pressano In maniera Offensiva Alta I braccetti Quindi se si vanno A creare i braccetti Loro Stanno su Terrier Su Gabby E Tomori In maniera Oppure Paolo Giocherà In maniera molto aggressiva Ok Ovviamente si parla di un momento La partita Perché Come vi spiegherò dopo Ci saranno vari momenti La partita Bisogna essere bravi a leggerli Comunque Solitamente si crea questo Quindi Tra le linee Tra le linee Si può trovare Lo spazio Sarà importante Far fare Questo lavoro Perché L'ha fatto bene Contro l'Inter E perché Far sì che si abbassa Un centrocampista Crea Appunto Il fatto che Bonifese Deve andare In pressione qui Terrier E Virz Devono stare Sui braccetti E quindi Si crea superiorità Centrocampo Si crea superiorità Centrocampo E questa superiorità Ragazzi Dovrà Essere poi Accorciata Dai ai vari Frimpongo Dai ai vari Terrier E quindi Insomma Possiamo creare Difficoltà Leverkusen Facendo questo Quindi Secondo me Sarà molto Importante Fondamentale Fofanada Abbassarsi Per me Lo rivedremo E arrivando Al discorso Dei momenti Della partita Cosa sarà Importante Fare Ragazzi In questa partita Sarà importante Essere pazienti Perché Essere pazienti Perché Leverkusen È anche Una squadra Che sa fare Questo Ok Cioè Mettersi In fase Di Possesso Nostro Quindi Insomma Di attacco Stiamo cercando Di impostare Di far male Il Leverkusen È molto bravo A stare Anche così Ok A stare Con una linea Veramente Molto Molto Compatta Solida Con un Praticamente Un 5 Ehm Direi anche Un 5 4 1 5 4 1 Ci sta Perché Terriere Si abbassano Molto Boniface Sta a schermare Quindi Noi ragazzi Dovremmo avere La pazienza Di dover Girare palla Di fare un bel giro Palla Di cercare Poi Di trovare Gli spazi Senza dover Ehm Portare Troppi Uomini In maniera Insensata In zona Offensiva Perché Perché ragazzi Questo è quello Che vuole Leverkusen Cioè che tu Ti scopri E appena perdi Palla Ragazzi Frimpong Grimaldo Virz Boniface Terriere Fanno male È una squadra Che è molto brava A ripartire È una squadra Che fa Anche del Contropiede Una Una sua Una sua Importante Mossa Caratteristica E quindi Quindi tu dovrai Essere bravo A saper leggere I momenti della partita Quindi dovrai Essere dominante Ma allo stesso tempo Nel momento in cui Ne ha di più Leverkusen Farti Dominare In maniera apparente In che senso Che quando invece Sarà il Leverkusen Ad alzarsi Ad alzare I baricentro E quindi Averne di più Ad aggredirti alto Tu dovrai Metterti ragazzi Con un 4 4 Un 4 5 1 Ne avevamo già detto prima Con Reinders Insomma Reinders Fofana a fare i mediani A prendere le mezzali Gabbia Emerson E Teo Bloccati Teo Emerson Su Grimalde Frimpong Tomori E Gabbia Su Boniface Senza farsi attrarre Troppo Senza uscire troppo Pulisic E Loftus A Come diciamo Creare un centrocampo A 5 Ok E' un po' atipico Nel senso che Loftus fa la mezzala Pulisic fa la mezzala Leao Va a dar supporto In questa zona Pulisic dovrà fare Veramente un lavoraccio Ma L'abbiamo visto anche nel derby Ragazzi Questo doppio ruolo Lo sa fare E sicuramente Lo riproporrà Quindi A seconda del momento Della partita Bisognerà Essere bravi a leggerlo Perché ci saranno ragazzi Due partite Nella partita Cioè Il momento in cui Leverkusen sarà compatto E aspetterà Solo l'errore Il fatto che tu porti Troppi uomini Per ripartire E il momento in cui Leverkusen cercherà Di dominarti E tu dovrai essere bravo Allo stesso modo A fare lo stesso Cioè Essere compatto Per poi ripartire E il Mina Ragazzi Questo ragioniamo Stato anche nel derby Perché il gol di Pulisic Arriva così Ehm E' molto bravo E' molto bravo A fare anche questo Il Mina A ripartire Perché ha Leao A Loftus A Pulisic Che nello spazio Quando si crea Campo Sono molto bravi A Insomma A attaccarlo Cosa molto interessante Ehm Siamo quasi alla fine Ragazzi E non annoiatevi E sarà Capire dove orientare Il possesso Ok Dove orientare Il Sia in fase di possesso Che di non possesso L'azione Perché si può fare In entrambe le fasi Perché La pressione Che vai a portare In fase di impostazione A scuola avversaria Ti può portare A dirgli Ok Ti occupo in capie Tu giochi da questa parte Ok Quindi è importante Anche questo Può essere una scelta Una tattica Anche questo Lo andiamo ad analizzare In fase di possesso Ragazzi Io Ripeto Secondo me La chiave è veramente Andare a cercare Questa fascia Ovviamente Quella di Teo e Leao Perché Perché Frimpong Soprattutto in fase Offensiva È uno che si propone Tanto E ti può lasciare Questo spazio Questo spazio E il mina Ragazzi Con questa Questo duo È bravissimo Ad attaccare Lo spazio Quindi Secondo me Cercare di Impostare L'azione Orientare L'azione Più sulla Sulla destra Sulla parte destra È una chiave Sicuramente Ma può essere Una chiave Anche cercare La fascia Sinistra Andando però A costruire Da Da destra Perché Perché ragazzi Portare Più uomini Qui Ok Quindi cercare Di creare Un'azione Pericolosa Qui Porta ad avere Ovviamente Leverkusen Ad avere Leverkusen Attento In questa zona Di campo Ok E Frimpong Ragazzi È un buonissimo Giocatore Forte Ma secondo me E l'ho visto In varie partite Soprattutto Contro il Bayer Monaco Il Bayer Monaco Ragazzi non fa testo Perché Sta una partita un po' così E ovviamente Il Bayer Monaco Non è il Milan Però Frimpong Fa veramente fatica Cioè Quando deve difendere Ed è già A 5 La difesa Fa anche il suo Perché è veloce È rapido Ha I tempi di chiusura Non li ha Quando però L'azione si sviluppa Da un'altra parte Quindi se il Milan Sviluppa di qua Ragazzi Il Leverkusen Fa questo E Frimpong Quasi si dimentica Che c'è Leao Da questa parte Che c'è Theo No? Quindi se il Milan In fase di possesso È bravo a fare questo Questo cambio di gioco Leao Si può trovare Veramente Tante volte In 1 contro 1 Contro Tapsoba E questo Ricordatevi Quando dicevo Non sono veloci I centrali Ecco perché vi dico Andiamo a giocare Da questa parte Cerchiamo di far questo Perché Tapsoba Nell'1 contro 1 È molto Meno rapido Di un incapie Contro Pulisic E questo ragazzi Va a nostro Favore Perché Perché Pulisic Facendo una mezzala Facendo questo doppio ruolo Spesso lascia stare Questa zona di campo Questa zona larga Quindi molto spesso In questa zona Non la occupiamo Anche in profondità E quindi questo Non doverla occupare Perché c'è incapie Che è veloce E doverla occupare Invece di là Già lo facciamo Però farlo oggi È molto importante Perché Tapsoba È più lento Di incapie Però Noi lo facciamo Di già Perché ripeto Tendiamo Ad avere Pulisic Più basso Da costruire Per dare Sì da centrocampo E Leao Più largo di là Quindi Leao Tapsoba Con Frimpong In ritardo Può essere una chiave Ma può essere una chiave Ragazzi anche questo Cioè nel senso Cercare di costruire L'azione di qua Ok E portare incapie A dover far questo Ta deve accorciare Tapsoba pure Ok Perché l'offo Sicuramente si inserisce E Leao A far questo Perché Frimpong Ragazzi è sempre in ritardo E se Leao è bravo A chiudere sul secondo palo Può essere veramente Un fattore importante Quindi in fase di possesso Secondo me bisogna essere bravi A sfruttare entrambe le cose Sapendo ovviamente Che La chiusura L'azione Sia in rifinitura Che magari Su un Diciamo Su un cross Sul secondo palo Deve essere fatta Secondo me sulla sinistra Perché Secondo me soffre di più Perché Grimaldo è più bravo A difendere Più bravo a gestire Entrambe le fasi Incapie è più veloce Quindi secondo me Questa Può essere veramente Una soluzione Chiudiamo con la fase di possesso Invece di Leverkusen Come dove orientarla In realtà qui ragazzi C'è poca differenza C'è poca differenza Perché secondo me Il Leverkusen ragazzi È molto forte In entrambe le fasce Quindi Le fasce Quindi Dove vai vai Trovi qualità E trovi Trovano fraseggio loro Sicuramente 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 Ragazzi Può essere un fattore cosa Questo Cioè L'orientare Sulla destra Cioè Ebram fa questo Ok E cercare di far costruire A destra Perché Perché Se tu solleciti Frimpong ad attaccare Quindi da Questa è sicuramente una Una cosa che dico io Quindi non è una roba Che si fa là È una cosa che Presuppongo io Se si dà Occasione a Frimpong Di andare spesso All'uno contro uno Comunque Lo spazio per attaccare Ok Questo vuol dire Che Frimpong Sollecitare Frimpong A fare la fase offensiva Porta poi Frimpong A non avere la loro lucidità E a non essere presente In fase difensiva Quindi nel momento in cui Leverkusen cercherà Sarà insomma Nella fase dominante Della partita Quindi ti starà dominando Cercare di Far giocare di qua Per poi ripartire Sarà importante Perché Frimpong Sicuramente Se si gioca di qua Sicuramente È uno che Che Cioè Supporta l'azione offensiva Per carità Ma Se porta palla È ancora più Lascia secondo me Ancora più spazio Sta ancora meno attento Alla fase difensiva Quindi Può essere Ovviamente rischiosa Perché Frimpong Forse è ancora più forte Di Grimaldo In fase offensiva Può essere Una chiave rischiosa Nel senso Un rischio però Che tu ti vai a prendere Perché Perché nel caso in cui Riesci a riprendere palla Poi Nelle corsie Sulla sinistra Sei già sulla fascia Sinistra Sei già in contropiede Frimpong ti lascia più spazio Tapsova è più lento Quindi Non c'è tante differenze Su dove orientare Ma Potrebbe essere un'idea Fare questo Anche perché Ripeto Ragazzi Hai Teo Perché secondo me Teo L'uno contro uno Contro Frimpong È molto più Fattibile E sostenibile Rispetto all'uno contro uno Con Grimaldo Ok Ok che qui C'è più C'è più copertura Perché Pulisic Si abbassa di più E va da una mano in più E Leao forse lo fa un po' Un pelino meno Anche se ripeto Ci sarà l'Oftus Però Secondo me Anche a livello di uno contro uno Fare la scelta di lasciare L'uno contro uno Frimpong Teo È Secondo me Può ripagare Può ripagare Mettiamola così Ripeto Non c'è tanta differenza Sul dove orientare il possesso Delle Verkusen Perché Sono bravi in entrambe le parti Bisogna essere Come detto prima Bravi a scalare Bravi a dare supporto Raddoppiare Eccetera eccetera Però Occhio a questa cosa qui Sollecitare la fascia destra Ad attaccare Portare Insomma Dargli Spazio Per farlo Per fargli attaccare Più a destra Per Sollecitare Frimpong Farlo anche Minimo Stancare Ad essere Meno lucido Poi in fase difensiva Ok ragazzi Quindi penso Si sia detto Tutto Abbiamo analizzato A mio avviso Anche abbastanza bene In maniera molto Dettagliata Quello che sarà Leverkusen Milano Ovviamente ragazzi Non c'ho la sfida di cristallo Semplicemente siamo andati Ad analizzare Le caratteristiche Delle due squadre E nulla Io sarò Leverkusen Quindi Il post partita Sicuramente Vedrete un video Il solito video Delle trasferte Il forma delle trasferte Spero vi piaccia E poi vedremo Analizzeremo Il post partita Insieme Con la nostra Solita lavagnetta E vedremo Come sarà andata Questa partita Forza Milano sempre Speriamo bene E nulla Alla prossima Forza Milano